Dalle misure effettuate negli ultimi anni dall'Agenzia Provinciale per l'Ambiente e dall'esperienza maturata in altri ambiti, emerge che spesso la qualità dell'aria indoor, nelle abitazioni, negli uffici e nelle scuole è scadente. Considerando che passiamo fra il 90 e il 95% del nostro tempo in ambienti chiusi, la qualità dell'aria in questi ambienti è evidentemente di fondamentale importanza. Se ne parla troppo poco, si affronta di più il tema dell'aria all'aperto, riferita magari al traffico, si sottovaluta l'aria indoor. Bisogna considerare che la qualità dell'aria indoor tipicamente è peggiore dell'aria all'aperto, perché? Perché contiene gli stessi inquinanti che troviamo all'aperto, ma in più si sommano altri inquinanti tipici proprio degli ambienti chiusi. Facciamo qualche esempio concreto. La CO2, l'anidride carbonica, un gas che produciamo noi stessi con la respirazione. Oppure la formaldeide, un altro gas che viene esalato da materiali di arredo a componente legnosa. Oppure il radon, un gas radioattivo naturale che proviene tipicamente dal terreno. Tutti e tre questi gas si trovano tipicamente solo in ambienti chiusi e sono accomunati dal fatto che un maggiore e più efficiente ricambio d'aria in questi ambienti li riduce sensibilmente. L'Agenzia Provinciale per l'Ambiente già da tempo ha iniziato a monitorare la qualità dell'aria anche all'interno dei locali. E le sorprese non sono mancate. La formaldeide è un gas che l'Agenzia Internazionale sulla Ricerca del Cancro ha classificato come cancerogeno per l'uomo in concentrazioni elevate. Ha un sacco di applicazioni industriali, si produce con qualsiasi sistema di combustione, ma quella che a noi interessa è la formaldeide utilizzata nel campo dell'arredo. Qui vengono impiegati diverse tipologie di pannelli a base di legno che in comune tra di loro hanno che una parte è legno in diverse pezzature, l'altra è colla che nella stragrande maggioranza dei casi è una resina di urea formaldeide. Ora, succede che in condizioni di temperatura e di umidità normali che possiamo trovare in un ambiente di vita, come un soggiorno, un ufficio o un'alla scolastica, la molecola di colla rilascia la sua componente di formaldeide nell'aria. E questo processo non è temporaneo, ma è molto lungo, dura anni. Qui abbiamo un pannello che è stato realizzato circa 20 anni fa e emette ancora quantità importanti di formaldeide. Va da sé che un ambiente confinato ha una ventilazione limitata, per cui la formaldeide emessa dai materiali si accumula, in alcuni casi raggiungendo concentrazioni anche superiori ai limiti, diventando quindi nociva per la salute. Bisogna innanzitutto fare attenzione a non esagerare con la quantità di materiale a base di legno che andiamo a inserire dentro l'ambiente. La seconda, e che è una regola generale, gli ambienti chiusi devono essere areggiati con frequenza. Per areggiare si intende sostituire l'aria interna dell'ambiente con quella esterna. Qualità dell'aria indoor in ambienti di vita e lavoro. Questo è il titolo del convegno tenutosi all'ospedale di Bolzano e che ha visto alternarsi sul podio esperti di fama internazionale. Lorenzo Capasso, dell'Università degli Studi di Pavia, ha ribadito l'importanza di areggiare regolarmente e frequentemente i locali nei quali si vive e si lavora. L'incidenza dei tumori causati, ad esempio dalla formaldeide, è impressionante e spesso sottovalutata. Parliamo di indoor soprattutto perché il 90-95% del tempo, nei paesi più economicamente sviluppati, lo trascorriamo al chiuso. E quindi l'atmosfera indoor è un'importanza capitale, anche più importante di quella outdoor. E vi ritroviamo alcuni inquinanti molto pericolosi. Fra questo il gas radon, una sostanza radiattiva e cancerogena, seconda causa di tumore al polmone, nonché la formaldeide contenuta in tantissimi prodotti di uso quotidiano, soprattutto nel mobilio, anch'essa cancerogena. Fra i rimedi sicuramente la questione più importante, principale, è quella di avere una corretta areazione dei locali indoor. La provincia di Bolzano, con i vari enti presenti sul territorio, monitora costantemente la situazione e procede con regolari azioni di sensibilizzazione. Si pensa sempre che all'interno delle case, che le nostre case siano dei luoghi sicuri. Si pensa che quando si è arrivati a casa, si sta bene, si è protetti. In realtà ci siamo resi conto che da una serie di anni sono cambiati i materiali di costruzione, sono cambiati i materiali di arredo, si aprono molto meno le finestre e tutto questo aumenta la temperatura interna, per cui aumenta anche il tasso di umidità all'interno delle case. Tutto questo favorisce una serie di produzione di molecole che sono alcune tossiche, alcune nocive, alcune anche cancerogene. E pertanto educare la gente ad aprire le finestre, a cambiare spesso l'aria, sarebbe opportuno per tutti. L'importanza dell'azione di informazione e prevenzione quando si parla di qualità dell'aria indoor, quindi in ambienti chiusi, è ormai nota anche in ambito accademico. L'argomento è molto importante in quanto abbiamo la necessità di porre grande attenzione nei comportamenti che noi abbiamo all'interno degli ambienti confinati, in particolar modo in ambienti che non consideriamo tali, tipo le scuole oppure gli uffici, o anche le strutture ospedaliere, quindi i sistemi sanitari, non solo la casa. Vi è una tendenza a una eccessiva concentrazione di sostanze all'interno rispetto all'esterno, perché nel tentativo di ridurre i consumi energetici tendiamo a ventilare meno e quindi meno a diluire queste sostanze che produciamo. Tra l'altro sono molto presenti negli arredi, nei mobili, talora nel passato nelle vernici, oppure in quello che noi utilizziamo negli hobby, in particolare la formaldeide. Avremo la necessità di esigere che nel prossimo futuro tavoli tecnici e l'associazione di società scientifiche dell'università, degli enti di ricerca, ma anche delle strutture istituzionali in particolar modo, iniziando dalle entità provinciali e regionali fino a quello nazionale, inizino a determinare normative che esigano controlli e certificazioni sulle emissioni di queste sostanze da parte sia dei materiali di costruzione, sia degli arredi. In ultimo il nostro comportamento. Utilizzare molte di queste sostanze all'interno degli ambienti senza ventilarle in modo opportuno, usandoli in modo smodato, è sbagliato. Dovremmo cambiare anche questo. Il primo passo da compiere quindi nella vita di tutti i giorni è quello di cambiare aria negli ambienti nei quali viviamo con una frequenza maggiore rispetto a quello che si fa abitualmente. Grazie a tutti.